Linea diretta, voce ai cittadini, l'amministrazione risponde, ogni martedì alle 18, in diretta web su quotidianodigela.tv, il sindaco e l'aggiunta rispondono alle domande dei cittadini, live sulla pagina facebook del quotidianodigela.it. Ben trovati da Luca Maganucco per la nuova puntata di Linea diretta, è questo lo spazio istituzionale dedicato dal quotidianodigela.it, dalla nostra redazione, all'amministrazione comunale, l'amministrazione capeggiata dal sindaco Domenico Messinese, che ormai da gennaio con tutti gli assessori, compreso il sindaco, vengono qui a dialogare con voi, grazie a questa programmazione. Voi potete interagire come al solito ogni martedì alle 18 in diretta inviando dei messaggi al numero che vedete in sovraimpressione, invito Alberto a mandarlo sovraimpressione, lo ringrazio, il numero è il 348-79-37364, un numero importantissimo da tenere a mente perché siete voi inviando messaggi a mantenere comunque la scaletta del nostro programma, quindi possiamo dialogare, parlare dello stesso argomento anche più volte e ritrattarlo, sarete sempre voi. Oggi l'ospite studio, dopo l'ultima volta, dopo il successo della trasmissione avuta martedì scorso con il primo cittadino Domenico Messinese, oggi abbiamo l'onore di ospitare l'assessore ai tributi, affari legali e bilancio, cioè l'assessore Fabrizio Morello, che salutiamo subito. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Assessore, grazie di essere qui, non è la prima volta che viene a linea diretta, certo, è anche un nostro conoscente qui nei nostri studi, ha frequentato anche l'indiscreto, è stato incalzato dalle nostre domande, ma adesso sarete voi, sarete voi i protagonisti. Iniziamo subito con la prima domanda iscaletta da porgere all'assessore. È un dialogo, è un conviviale, è una possibilità di poter avvicinarsi all'amministrazione, sfruttatela come fate sempre, io ve lo rinnovo perché è importante dirlo, è importante sottolinearlo. A volte leggo anche dei messaggi di qualcuno postati sulla nostra pagina Facebook, perché Facebook anche lì potrete seguire la diretta, oltre al canale del digitale terrestre 621, Antenna 7, questo nuovo canale che è visibile in 7 province di tutta la regione e naturalmente in questa nuovissima piattaforma della Web TV che Quotidiano di Gela ha realizzato, il nome Quotidiano di Gela Web TV, è proprio questo di qua, è il Domino, dove voi potete cliccare e seguirci in diretta. Assessore, entriamo subito nel vivo della nostra conversazione, in attesa sempre dei messaggi. Dopo l'approvazione in giunta del Piano Trinale delle Opere Pubbliche, adesso si spiana la via al bilancio di previsione del 2017, che manovra sarà, Assessore? Ce lo spieghi? Guarda, come già nel 2016 il tentativo è quello di far fronte a quelle che sono inevitabilmente anche per il 2017 le previsioni di riduzione di entrate da parte dell'ente. Chiaramente come obiettivo in giunta ci siamo già posti, come ho fatto nel 2016, lo confermeremo anche nel 2017, quello di limitare quelle che sono i cosiddetti, io li chiamo danni, a taluna tipologia di servizio, che grossomodo sono i servizi che poi corrispondono al settore ad esempio dei servizi sociali, laddove praticamente c'è un bisogno, noi facciamo in modo, al di là del concetto di essenziale, obbligatorio per legge o meno, ma di mantenere quanto più possibile quella spesa che c'è stata negli anni precedenti. Poi verificheremo nell'ambito di altri settori, laddove è possibile migliorare l'efficienza e l'efficacia delle risorse oggi disponibili, ma grossomodo su settori nevralgici e centrali lì faremo sicuramente lo sforzo anche quest'anno di mantenere taluna tipologia di servizi. Penso ad esempio alla riflessione scolastica, penso al trasporto, ad altre assistenze, penso al contributo ai bisognosi e così via. Poi a proposito di piano triennale delle opere pubbliche, avremmo sicuramente voluto avere un piano triennale che avesse come impegni spesa corrente 20 milioni di euro e non solo due. È chiaro però che le risorse sono queste, per cui così come lo scorso anno abbiamo anche lì provato a mantenere, se solo ridotto marginalmente, ma anche lì mantenere quelli che sono una serie di servizi che offriremo in termini di manutenzione nelle scuole, piuttosto che nelle strade cittadine e quant'altro. È oggettivamente un bilancio, come tu sai, in molti comuni non voglio così dare l'idea che siamo messi male, però non c'è dubbio che ormai da alcuni anni, soprattutto negli ultimi anni, tutti i comuni in Italia, compreso ovviamente anche il nostro, risentono inevitabilmente di quelli che sono i tagli, i tagli che arrivano praticamente dallo Stato centrale, che da una parte si toglie i propri servizi che prima erano di competenza dello Stato, li trasferisce ai comuni, non più neanche alle regioni, però non dà le risorse necessarie per affrontare talone tipologie di servizi. Altro elemento che mi va di sottolineare è che noi oggettivamente, lo dico con molta franchezza, abbiamo una difficoltà e la difficoltà è legata al fatto che noi anche in questo bilancio 2017 affronteremo inevitabilmente parte di spesa corrente, ahimè, per coprire inevitabilmente debiti di progressi. Questo inevitabilmente sottrae risorse che potremmo magari dedicare ad alta tipologia di servizi. Nel suo complesso è un bilancio che speriamo di presentare entro fine giugno, approvarlo in giunta, così poi da fare il passaggio consueto al collegio del revisore e quindi così trasmetterlo al Consiglio Comunale. L'assessore Morello può sembrare più noioso perché tratto un argomento serissimo, un argomento che è alla base di qualsiasi programmazione. Non si può parlare di nulla se non ci sono soldi, lo sappiamo nella gestione delle nostre famiglie e lo sappiamo nella gestione del lavoro. Non è esente da questo ragionamento l'ende all'amministrazione comunale. Parler di soldi è fondamentale, senza soldi i progetti rimangono lì, rimangono nel cassetto, a volte non si possono nemmeno stilare, nemmeno completare. Un progetto rimane lì. Per questo le chiedo qual è la situazione dei debiti di questo ente? Perché voi l'avete ereditato comunque una situazione non certo facile. Lei dice che non parliamo di sesto, vero? No, no, no. Ci tranquillisi, ci faccia capire che è veramente distante il dissesto e ci faccia capire qual è la situazione dei debiti. Non ho la sfera magica. Questa è la domanda che ci porce Claudio, ringraziamo naturalmente. Non è la sfera magica chiaramente che ho a disposizione per capire quali sono, vi faccio un esempio, le manovre o le norme che ci saranno nel futuro, anche se prossimo. Per fare un esempio del concetto che voglio dire. Nel dicembre del 2016, con la cosiddetta finanziaria 2016, il governo allora Renzi decide praticamente di ridurre, di azzerare l'imposta alla tasi, quella praticamente sui servizi, sui proprietari di prima casa. La condivido perfettamente la scelta. Però poi lì, prima che la Manonova arrivasse, approdasse in aula e venisse approvata, vi forrò tutta una serie di incontri. Stato, Regione, Anci in primis, che è l'organismo che rappresenta i comuni, i propri enti locali, insieme alle regioni, quindi rappresentate anche essa da un proprio organismo, allora si decise praticamente che la quantità di risorse in meno che sarebbe ogni singolo comune avuto dal taglio proprio della tasse sulla prima casa sarebbe stato coperto con altri finanziamenti. Il risultato qual è? Il risultato è che nel 2016 noi introitiamo, per via della norma, circa 2 milioni di euro in meno, questo è il valore della tasse, però dall'altra parte non vengono mantenuti e rispettati quegli impegni, per cui ci ritroviamo di fatti con 2 milioni. Solo sul 2016, per dare un'idea, noi abbiamo dovuto affrontare una riduzione di quella che gli importi che il comune, a differenza di altri, aveva come elemento di forte vantaggio che erano le royalties e già nel 2016 si erano ridotte di più di 7 milioni di euro, quasi più di 2 sono arrivati in meno dalla tasse. Per darvi un'idea, solo nel 2016 noi abbiamo ridotto di quasi 10 milioni di euro le entrate dell'ente solo di spesa corrente, quindi su una spesa corrente che grossomodo è intorno ai 70 milioni, ne togli già 10, capisce che già nel 2016 è stato un anno di pesce edifici. La prospettiva sul 2017 è che anche le royalties, anche in quota parte, dovrebbero ridurse ancora di più, quindi in un anno e mezzo, comunque in due annualità di bilancio, noi ci ritroviamo con 13-14 milioni in meno, giusto per dare un'idea. Allora lì diventa importante stare attenti e capire come spendere bene le risorse. Purtroppo ai tempi in cui io spesso mi confronto anche con le associazioni che erano magari abituati ad avere dall'ente, dal comune risorse necessarie per fare tanto. Oggi purtroppo non riusciamo più, ma no perché questa amministrazione che aveva già detto da Messinese, per utilizzare il termine che hai utilizzato tu, abbia deciso dall'oggi al domani di chiudere i rubinetti. Purtroppo non è così, qualcuno le aveva già promesse di chiuderli. Noi per certi versi non li abbiamo chiusi, ma siamo stati costretti a gestire con più attenzione le risorse. Cercando, ribadisco come ho detto un po' fa, questo te lo dico, cercando praticamente di far sì che comunque vengano mantenute taluni servizi che riteniamo essere servizi essenziali. Torna alla tua domanda debiti. Perché ho fatto questa premessa? Magari forse ho perso un po' più di tempo, spero di non aver fatto perdere il filo, il ragionamento. Per dirti che ci sono meno risorse, ma nel contempo tu comunque devi far fronte a impegni presi in precedenza senza coperture. Devi far fronte a sentenze di giudici che decidano che è un esproprio che magari dall'ente era stato fatto, nel bene o nel male, io qualche dubbio ce l'ho, era stato fatto per 25, poi il giudice dice guarda che quello esproprio lo devi pagare a 80 se non è 2,300. Capisci bene che di questi ne arrivano tutti i giorni, non voglio esagerare a valanga, per attività svolte dall'amministrazione dagli anni 90 in poi, gli anni 2000 in particolare, o a cavallo diciamo di quel periodo, e oggi paghi tazio. Questo incide sulla spesa corrente. Perché c'è una tipologia di debiti che tu devi far fronte, cioè se tu non hai pagato un fornitore perché in bilancio non avevi previsto le somme, non è che puoi dire attenti che mi faccio un mutuo, non lo puoi fare, nel senso che la spesa corrente la devi coprire con le entrate correnti. Quindi questo inevitabilmente incide parecchio. In tempi in cui le risorse delle entrate erano tali, magari questo incideva in maniera marginale. Con il ridurse delle entrate inevitabilmente inizia a pesare di più sulla spesa a tua disposizione, perché devi accantonare parte della spesa a coprire inevitabilmente i debiti, mutui contratti negli anni precedenti e quindi riduci fortemente la forbice di risorse che hai a disposizione per poter pianificare e programmare. In maniera dovuta e corretta come dovrebbe essere. E questo è farmi dire, visto che ne approfitto poi magari rispondiamo. Io mi sono così, sempre posto tra me e me, spesso mi capita di parlarne così, a volte liberamente voglio farla in questa occasione. Ci sono stati anni, tanti anni ragazzi, a partire dagli anni 90 in poi, da quando praticamente la legge ha, ad esempio con riferimento al royalt previsto che in funzione dell'estrazione del prezzo di vendita del greggio estratto nel territorio, l'ente, quindi la società che estraeva, doveva riconoscere al comune di competenza determinate somme che dovevano servire a mitigare il cosiddetto anche impatto ambientale e così via. Ci sono stati anni in cui questo ente ha ricevuto 15-17 milioni. Allora sommatene in tutti questi anni ha ricevuto centinaia di milioni di euro. Io sommessamente faccio a me stesso una domanda, ma se noi avessimo tutti gli anni, forse amministrato con maggiore attenzione, e messo da parte su 17 milioni, 2-3 milioni, questi 2-3 milioni oggi lo decidiamo che sopraffare quest'opera pubblica. Il prossimo anno prendiamo altri 2-3 milioni e decidiamo di fare un'altra opera pubblica. Da quanto noi ricevevamo del royalti, oggi questa città sarebbe un'altra, ma non te lo dico con me. Invece cosa abbiamo fatto negli anni precedenti? Questo ragionamento non è stato fatto per certi versi e cosa ancora più grave è che per fare un minimo di opere necessarie poi si è ricorso a mutui e quindi è indebitamento con gli interessi. Con l'aggravante che non ci troviamo nelle strutture e le poche che sono state realizzate magari vengono messe in vendita dopo essere state abbandonate. Qui c'è pure un giochino. Però c'è Antonio che è stato molto attento, ha seguito secondo me il suo ragionamento, anzi sono convinto che ha seguito il suo ragionamento assessore e chiede, ma gli spropiti del tribunale, come si è chiusa la vicenda? Lì, devo dare... Diciamo, è una vicenda molto lunga, importante. È una vicenda che parte a fine anni 90, credo, dal 2000, 2002, eccetera. Io ricordo la disperazione della famiglia Calafiore quando cercavano in vano di bloccare l'avanzata di quelle ruspe scortate dalla polizia municipale con il placet di un progetto dell'allora vice sindaco di Sanuara che doveva chiamata a sostituire l'ormai ex sindaco Rosario Crocetta perché aveva avvinto la sua poltrona come ero parlamentare a Bruxelles e quindi dopo aver eseguito questo iter lo lasciò nel limbo, una situazione assurda che la famiglia Calafiore dovette pagare a proprie spese, non solo, ma anche il negozio di ortofrutta con uno sfratto forzato, anche mortificante se vogliamo, una persona che lavora che pagava l'affitto, che si è trovato, si è stato costretto a lasciare l'attività perché? Perché si era deciso di fare quest'opera di pubblica utilità, ma l'iter non è stato seguito bene, non lo dico io, l'ha detto il CGA che ha dato ragione Calafiore, l'ha detto il TAR, prima il TAR, poi il CGA e glielo dice ancora. E' tutto sbagliato, un iter veramente sbagliato, che costa molti soldi e non è solo questo l'unico CGA, purtroppo è Gela, che pagherà la collettività, pagherete voi perché poi il bilancio non è necessario. Pagheremo noi come cittadini, parleremo come cittadini sicuramente. Su questa vicenda devo dare atto che per fortuna forse siamo stati graziati in un certo qual modo, ti spiego perché temevamo molto ma la città almeno, quelli un po' più attenti magari che seguono le vicende di questo comune erano per così dire informati e temevamo molto l'esito della sentenza del CGA, per fortuna poi una lettura ancora più attenta del dispositivo della stessa sentenza che è recente risale al mese scorso, con la quale lo stesso CGA, lo stesso tribunale quindi amministrativo interviene e interviene anche per certi versi nelle modalità con cui l'ente e le parti comunque devono divenire dal pagamento. Questo ha consentito di fatti ai tecnici che stanno ancora lavorando di poter determinare somme che non sono poi somme così come inizialmente pensavamo o comunque chiesti dalla controparte, sono somme che comunque ci consentono di tirare quasi un sospiro di sollievo e quindi poter ragionare in termini anche qui di pianificazione dell'indebitamento però non in condizioni tali per cui avremmo realmente inciso sul bilancio dell'ente e creato veramente condizioni preoccupanti. Il tema è che di queste vicende ve ne sono altre per cui ecco perché sotto questo aspetto siamo quasi costretti a vivere giorno dopo giorno, sperare che i giudici decidano di intervenire e noi poi con molta attenzione provare a tirare fuori le risorse necessarie per evitare di creare disequilibri economici. Ce ne sono altre naturalmente e Giulio Giardina molto attento dice che per esempio il pollo energetico agroverde, quel pollo importantissimo presentato anche in quel caso dal governatore Rosario Crocetti, quella è un'altra, attenzione l'idea di tutti i mani dell'economia locale, diciamo la vergogna europea adesso. No io adesso non dico che l'idea che stava alla base era sicuramente un'idea di cui veramente valeva la pena scommetterci, attenzione perché comunque eravamo nella fase in cui i contributi che erogava lo Stato per l'energia prodotta da quegli impianti erano contributi importanti che davano al loro investitore interesse a realizzare gli impianti, era anche importante la produzione annessa a quella produzione di energia, quindi la produzione agricola e così via. Quindi l'idea iniziale di per sé non era malvaggia. No ma do giustizia ad Antonio Viva e a Giulio Giardina dopo, lì ti avrei sbagliato. Il tema è, se tu mi dai il tempo proprio, il tema è da una parte probabilmente spesso, magari se nella vita proviamo ad essere un tantino o meno megalomani, forse raggiungiamo per prima i risultati e gli obiettivi. Secondo aspetto, i contratti quando si fanno tra le parti devono avere senso e devono essere fatti nel senso di dare vantaggio, diciamo ad entrambe le parti, diciamo che ad entrambe le parti che sottoscrivono un contratto, un accordo, devono avere entrambi reciproco vantaggio. Io vi garantisco che dalla lettura di quegli atti vantaggi l'Ente non aveva proprio. L'Ente si è ritrovato ad espropriare per pubblico utilità, terreni privati e tutta la gestione del litro successivo era in capo a soggetti diversi dall'Ente. Quindi giusto per darvi i paradossi, i paradossi della vita. Però dico anche su questa vicenda, su questa vicenda che sembrava quasi annegarsi, ancora non è detta l'ultima parola, in giunta, abbiamo fatto diversi incontri anche con altri imprenditori, c'è un interesse da parte di altri soggetti disposti magari rivisitando il progetto senza creare però le condizioni di mutamento e quindi pur mantenendo gli elementi che hanno poi portato alle cosdette autorizzazioni. C'è la possibilità ancora di provare a salvarlo quel progetto se ci riusciamo, però anche questa è una scommessa. Abbiamo bisogno di tempo per farlo, speriamo che il tempo... Qualcuno mi chiede, la fiduzione di quel progetto era solida oppure era fantasma, una fiduzione falsa? Noi, meno credo sei mesi fa, il dirigente sul nostro input è intervenuto su quella polizza chiedendo praticamente la riscossione della stessa perché nel frattempo erano già iniziati dei procedimenti di natura giudiziaria da parte dei privati che sono passati anni e non si sono rivisti né indennità né tantomeno pagati i terreni espropriati. Addirittura io ne ho conosciuti e incontrati alcuni che mi dicono che praticamente gli hanno anche abbattuto casa e così via, per cui la vicenda è complessa anche sotto questo profilo. Però noi abbiamo iniziato quel litere di riscossione della polizza, ancora è passato quasi sei mesi, se non quasi un anno, non abbiamo avuto riscontro, però capiamo dagli atti che probabilmente dietro quella polizza in realtà ci stava poco o nulla. Però anche questo abbiamo chiesto al dirigente che ha già fatto, ha mandato anche sotto questo aspetto gli atti alla procura, per cui chi poi di competenza poi riterrà opportuno agire nei termini, nelle modalità in cui riterrà più opportuno. Però sotto questo punto di vista speriamo di poterlo salvare perché salvare quel progetto comunque nei termini e nelle modalità in cui questo si può fare significa comunque garantire ugualmente opportunità di lavoro e risorse in questa città, per cui cerchiamo di salvarlo se ci riusciamo. Lei è buona, le dice che è cancellata anche qualche villetta, qualche casetta di campagna, ma anche l'unica aviopista di Gela è stata cancellata, come mi dicevano i soci, è proprio cancellata, è una struttura completamente cancellata, in cambio di nulla, perché non hanno ricevuto ancora nulla. Per chi ha subito quell'esproprio non c'è dubbio che al di là che fosse un terreno o fosse un aviopista o ci fosse la casa dove magari andava a trascorrere i weekend, eccetera, è comunque un danno enorme in ogni caso, attenzione, per cui abbiamo più volte incontrato i proprietari terrieri chiedendo di avere così magari di attendere, di aspettare ormai fare un ultimo sforzo e verifichiamo come si chiude la vicenda, però anche da lì potrebbe esserci un danno per l'ente enorme. Lei è un assessore al bilancio, quindi noi vogliamo leggere anche questa domanda, ringraziamo Daniele, i tifosi del Gela Calcio sono in ansia, vogliono sapere, mi scrive Daniele l'amministrazione comunale sta in qualche modo cercando nuovi imprenditori per il Gela Calcio, noi abbiamo ricevuto anche la telefonata da parte di Massimo Romano che la salutiamo anche l'anno scorso, lui si era messo in attesa, voleva fare qualcosa, intanto ci ha raggiunto l'assessore e il vice sindaco Simone Siciliano, sarebbe bello anche averlo da questa parte, come vuole lui, c'è qualcuno che ironizza, un nostro amico e ha scritto qualcosa sulla nostra pagina ufficiale Facebook, vorrebbe fare qualche domanda a lei, non lo so, lei è libero di scegliere, forse possiamo spostare la diretta a giovedì, possiamo spostare la diretta a giovedì, facciamo un'eccezione in vista del periodo estivo e dei vostri impegni, ne vuole rispondere anche se riesce magari… No, no, questa è una vicenda che sta seguendo direttamente in primis il sindaco, dalle informazioni che ho ha già avviato delle interlocuzioni, in questo senso mi fa piacere che ci sia anche che non so, io non ho avuto modo il piacere di sentirlo, Massimo, che è una persona che oltretutto conosco anche bene, per cui non… Però dico una vicenda che sta seguendo direttamente al sindaco, che non sta in alcun modo trascurando, sta verificando tutte quelle che possono essere le ipotesi, perché il calcio è al di là di chi lo ami o non lo ami, di chi lo segue tutte le domeniche, però il calcio è anche una di quelle cose di cui ormai la nostra società, e per certi versi dico forse non ne vuole fare a meno e speriamo che non ne faccia a meno. Fa parte di quegli aspetti della società, del vivere la città, per cui dobbiamo comunque sforzarci di creare i presupposti per quelle che sono le competenze dell'amministrazione comunale. Lo dicevo, la conversazione va avanti, la scaletta, in maniera un po' molto casuale, o meglio, viene pilotata da voi, che seguite lì dietro lo schermo, e poi come ogni programma c'è sempre l'affezionato, come nel caso di Antonio Cipolla, che le porge una domanda, e condividiamo anche il suo ragionamento. Lui gli chiede di dare priorità all'urbanizzazione all'interno del centro abitato, visto i tanti complessi di villetta nati poco fuori città, con relativi, l'argomento che parlavamo prima, e spropi, viste le numerose aree incolte presenti in città, dice perché non puntare sul centro abitato, dare priorità proprio all'urbanizzazione all'interno del centro abitato cittadino. No, questo è... Noi ringraziamo la domanda di Antonio Cipolla, lui lo scrive a me, io rispondo in questo modo. Io l'ho sempre visto, perché nel centro storico ci sono cresciuto, ci sono scordinato, ecco, vissuto. E ho sempre visto come il salotto della nostra città, e l'ho sempre pensato come un ambiente in cui ci si potesse avvicinare, magari lasciando la macchina un po' più distante, e non sotto il bar da dove dobbiamo prendere il caffè. E quindi dico, sotto questo punto di vista, l'attenzione la stiamo ponendo, già la prossima settimana in giunta approveremo una delibera con la quale praticamente proveremo, nei limiti chiaramente di quelle che sono della nostra disposizione, ad ingentivare ad esempio l'utilizzo di... non l'utilizzo, mi correggo, ad ingentivare chi voglia ad esempio sul piano del decoro urbano sistemare le parti esterne o ristrutturare direttamente immobili. facciamo sì che possa esserci un incentivo in questa direzione. Ricordo l'incentivo, abbiamo anche provato a sentire degli istituti bancari che sono già disposti a venire incontro da dove praticamente l'investimento dovrebbe essere notevole, con un tasso di interesse, che è un tasso di interesse diciamo un po' leggermente più basso di quello di mercato, queste sono le condizioni che le banche ci hanno offerte, proprio per chiare quei presupposti, perché si ritorni a vivere nei centri, quindi non solo in termini di decoro, in termini di prospetti esterni, ma anche in termini di ristrutturazione di quelli che sono gli immobili. Basta fare una passeggiata in via Cairoli, in via Navarra o comunque nel vivo del centro storico per accorgersi quante strutture fatiscenti ci sono e quanti immobili che potrebbero essere riprese e penso ad esempio essere utilizzati come B&B, perché uno degli aspetti problematici poi legati per certi versi allo sviluppo turistico è che ancora questa città offre una scarsa capacità ricettiva in termini di ospitalità, per cui dico se dovessero essere utilizzati immagino questi immobili anche in questa direzione il guadagno ne sarebbe duplice. In questo caso ricordiamo la messa nella disponibilità della struttura dell'ANAS che è proprio a pochi passi, è nel centro storico, via Colombo, proprio a diacente al parcheggio multipiano, questo è un altro atto importantissimo più che per fare cassa, per levare e rendere agibili le strutture, riqualificarle, creare economia e voi economia la volete creare, avete trovato i debiti e lei è stato forse uno dei pochi sono l'unico ad avere puntato l'indice su due strutture che si vedono a largo della costa di Gera ovvero le piattaforme, lei ha detto che queste piattaforme devono pagare anche la loro posizione ma in realtà non hanno mai pagato, non sono state mai sanate queste piattaforme perché il cliente fosse un certo Eni, ma non è a livello nazionale. Il problema va inquadrato in quelli che sono aspetti di natura normativa che spesso sono i giudici tributari e poi i giudici di Cassazione che spesso decidono e comunque interpretano la norma purtroppo questo è un paese in cui le norme vengono fatte non per essere applicate ma per essere interpretate e in materia spesso fiscale questo è un elemento in genere Le voglio fare a trutturare una cosa, quando pagano oggi e quando invece dovrebbero pagare secondo i calcoli, da punto di vista di imposte? Oggi in termini di IMU, ICI fino al 2011, in termini di ICI e IMU da partire dal 2012 oggi hanno pagato zero E dovrebbero pagare secondo i calcoli fatti da lei e da diversi comuni Siamo, per quanto riguarda il comune, perché oltre a IMU poi fa seguire anche la tasia ovviamente siamo nell'ordine dei 2 milioni su base annua per le piattaforme che sono risorse che questo ente potrebbe utilizzare benissimo perché poi c'è un problema di principio Abbiamo riscoperto un'altra free port, quella è dell'Ebama se noi abbiamo una nuova free port qui in Italia, nel Mediterraneo, nel Coreo Mediterraneo si chiama Gela, ma è soltanto un'area franca per Eni però, non per tutti i cittadini Questa è la vicenda che seguivo già prima di fare l'assessore c'è stato un consigliere comunale, Gulizzi, che allora in consiglio comunale pose l'amministrazione da allora, ma soprattutto i dirigenti da allora non tanto l'amministrazione perché poi vedi gli atti di fare chi si trova a dirigere e a firmare iniziarono, per dire così, un percorso solo che quel percorso era, per certi versi, utile averlo iniziato perché oggi comunque noi lo mettiamo sul banco però quel percorso era debole nella sua pretesa e nella sua richiesta ti spiego, erano già intervenute più volte delle sentenze della Cassazione e le sentenze della Cassazione richiamavano io non vorrei annoiarvi per chi ci ascolta, capiamoci però provo a spiegare un concetto, se no mi fermo e mi limito però questo è un vicenda, secondo me ma Bacchianito come questo comune potrebbe chiedere 4 milioni di euro l'anno 2 milioni, più i tassi siamo con l'ordine di 2 milioni e mezzo sono due piattaforme sono complessivamente 2 milioni e mezzo attenzione, quindi dicevamo ma sono noccioline mamma mia, in questa fase altro che noccioline questa fase sarebbe una risorsa importante soprattutto perché potrebbero essere orientate a mantenere magari dei servizi che probabilmente forse saranno costretti a tagliare ma in questo lo vedremo poi, dico, in sede di bilancio non è un sogno, è proprio un dato di fatto va pagato quindi dico, siccome qui c'è un principio io ho sempre definito un principio di diritto costituzionale per cui ognuno contribuisce e partecipa a quelle che sono le spese generali con le proprie risorse ma soprattutto in funzione di quello che fai e di quello che svolgi per cui tu hai un'attività economica quelle attività economiche vengono per leggi e tassate poi c'è un'interpretazione che diceva un'altra dice di sì, per fortuna la Cassazione in questa direzione ha dato ragione ai comuni Pinetola in prima che iniziò negli anni fin gli anni 90, grossomodo metà anni 90 per esempio, 95-96 poi siamo intervenuti noi e dicevamo qual è l'attenzione posta in più in questa vicenda è nella fase di accertamento nel senso quando tu dici ad una persona correttamente guarda che tu mi devi un'imposta gli devi spiegare perché mi devi dare l'imposta e soprattutto gli devi spiegare da dove deriva quella imposta tanto è vero che le sentenze della Cassazione dicevano guarda se l'ENI furbescamente così come l'ENI, così come altri in altre parti l'ENI nel nostro caso magari non le accatasta quindi non dà un valore allora in questa fattispecie praticamente determino sui valori contabili e non per credetemi che non è stato facile farsi dare i valori contabili di ammortamento dall'ENI su quelle piattaforme è stata anche lì una battaglia che per fortuna poi non è sfociata in un'annissima azione giudiziaria ma che siamo riusciti comunque a tirar fuori determinati valori e quindi superato l'ostacolo principe che invece era la carenza degli atti e dei presupposti precedenti di imposizione chiudo questo inciso correttamente vi dico oggi la fase in cui siamo arrivati ormai l'ENI ha tentato diciamo per così dire un ultimo colpo di coda che è stato il mese scorso quando in una manovra finanziaria manovra correttiva finanziaria aveva provato a introdurre un articolo 35 che pensate cosa prevedeva questo articolo 35 faceva un'interpretazione autentica superando quindi quelle che sono state tre sentenze della Cassazione dicendo risultato i signori non pagano complimenti si sono impegnati sono quasi riusciti probabilmente dico dalle informazioni che abbiamo noi l'articolo 35 poi alla fine è stato cassato letteralmente per intero perché probabilmente non sarebbe passato dal voglio al Presidente della Repubblica perché sarebbe stato realmente un pugno dell'occhio non a me ma quella che è la dignità al concetto stesso di norma di legge Dio mio dai quindi per fortuna no però dico non è detto che non ci riprovi non siete di conversione del perché il decreto di legge ha una durata di 60 giorni e poi deve essere convertito entro fine giugno dovrebbe esserci la conversione in Parlamento per cui comunque è già iniziata giusto per per informare chi ci ascolta è già comunque iniziata una fase di interlocuzione con Eni ci siamo già incontrati un paio di volte e stiamo lì determinando quali sono i valori su cui chiudere poi una partita o evitare che tutto finisca la situazione tra decenni Assessore gliel'avevo detto decidono loro decide in questo caso Angelo e Raci i codi devono quadrare dice come si fa a fare quadrare il bilancio o meglio come lei intende fare quadrare il bilancio visto che non ha concessioni minerarie che il piano il piano di rifiuti non è stato approvato e che oggi le dispone della metà dell'errore e siccome ha benissimo anticipato prima meno della metà un terzo di quelli che erano fino a un anno e mezzo fa come si fa? si fa come ti dicevo poc'anzi nella domanda iniziale nel senso che facendo sì che praticamente ti ritrovi ad avere un quadro di spesa e cerchi di concentrarti su quelle che sono le spese per dire così essenziali riduci riduci tra le tipologie di spese adesso se prima magari per per taluna tipologia di contributi che so magari ad associazioni autenti venivano erogati x somme riduci se prima si pagava per darti l'idea cosa stiamo facendo immediatamente cosa stiamo facendo immediatamente per recuperare circa 200.000 euro per recuperare circa 200.000 euro cosa stiamo facendo stiamo immediatamente provando entro quest'estate a trasferire la scuola Sant'Agostino che il comune paga alla Luigi Piratello che è stata completata quindi riportare le aule questo ci consenterà già sul bilancio di previsione 2018 di abbattere di 200.000 euro e così lo fai per ogni tipologia di spesa lo fai provando a ridurre e a minimizzare soprattutto e a destinare le risorse in maniera più oculata quello che probabilmente non si era mai fatto negli anni precedenti che non si spiegherebbe altrimenti l'ammontare dei debiti in mani che abbiamo trovato giusto per capirci non so se abbiamo abbastanza tempo per parlare anche di questo dell'utilizzo delle strutture comunque cedute a terzi invece vorrei parlare di perché dobbiamo dirlo se con le piattaforme l'ENI i mutasi può aspettare può godere del favore dello Stato in questo caso del Parlamento e comunque di sedezza e comunque si può trascinare il caso i cittadini non lo possono fare i cittadini devono pagare noi dobbiamo pagare e chiedono i cittadini per essere in regola per per non avere problemi come potranno adempiere a questo a questo dovere nella mia più semplice possibile insomma avete fatto qualcosa con la registrazione ci siamo anche l'abbiamo già iniziato fin da quando praticamente ci siamo insediati abbiamo portato quello che io dico è un'operazione secondo me unica e importantissima portato la banca dati del comune messa a disposizione di tutti i cittadini collegandosi al sito del comune di Gela è possibile cliccare sul sul lato destro portale tributi si apre un link si apre una pagina e in quella pagina inserire il proprio codice fiscale la password e accedere direttamente a quella che è la tua posizione attenzione in termini di tasi in termini di IMO in termini di TAR ovviamente quindi anche per la spazzatura lì andare entrare dentro e capire come praticamente siamo messi se abbiamo pagato non abbiamo pagato se siamo in regola e poi laddove ritieni corretti dati stampi il tuo F24 quindi è un modo come un altro per avvicinare i cittadini al comune all'ente senza bisogno di spostarsi fisicamente ma possono direttamente entrare attraverso un semplice computer da propria casa vedere la propria situazione in termini di rapporti nei confronti dell'ente e regolarizzarla anche direttamente sul sito del computer così come i cittadini così anche i professionisti che possono operare il nome per conto dei propri cittadini oggi questa banca è completa e quindi sostanzialmente pian 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 ho dovuto lavorare pian pianino oggi è praticamente completa per cui oggi posso fare un gran numero di operazioni che prima non facevo per capirci l'idea è l'idea semplice per cui tu lo fai con l'agenzia delle entrate lo fai con l'Inps da casa ti calcoli i tuoi contributi che hai magari versato e così via la stessa cosa la facciamo praticamente per ciò che riguarda il comune di Gela tanto quindi questa possibilità di sedersi comodamente da casa e guardarsi la propria posizione senza bisogno di spostarsi voi siete l'unica amministrazione che mi ricordo da quando opero in qualità di giornalista che avete toccato un argomento molto delicato che prima diventava anche argomento forse nel chiacchiericcio del comune quasi velato di uno scambio di voti cioè io mi riferisco all'accessione degli immobili del comune date ad associazioni le famose associazioni a enti vicine a soggetti politici in alcuni casi anche portano i stessi cognomi parentati con consiglieri ex assessori voi qui avete voluto siete entrati a gamba tesa avete voluto cercare di fare ordine o almeno ne avete parlato e io vorrei capire qual è la situazione e comunque come cercare perché si potrebbe anche fare cassa in questo momento di ristrettezza economica è un immobile ceduto gratuitamente con dei costi fissi che sono quelli che avete sottolineato voi in questo studio a me durante le interviste con il programma l'indiscreto avete parlato pure di immobili ceduti gratuitamente e pagate pure tutte le tutte le spese di di corrente acqua e quant'altro vedi in questo tema che è un tema molto delicato si innescono alcuni ragionamenti che dobbiamo fare come premessa perché se no non riusciamo di dare un'informazione che è distorta e tutto vorrei tranne che questo esistono realtà che dispongono di immobili dove tutto fanno tranne che associazionismo laddove ci sono realtà e per fortuna in questa città ce n'è tanta di questa realtà e credimi è un elemento un valore aggiunto per questa città utilizza le strutture per dare servizio alla collettività con cui vivi lì non c'è dubbio che trovi gli strumenti per poterli aiutare ma laddove ti impatti e riscontri che oggettivamente vi sono immobili io faccio una battuta una volta parlavo col sindaco di un immobile eccetera su cui era partito una notte abbiamo preso atto che lì serviva solo per giocarci a cartola ti puoi permettere il lusso quando tu hai anche necessità di avere degli spazi penso per la petterapia piuttosto che per altre attività necessarie allora dico puoi non intervenire anche su questo tema e capire quali sono praticamente i mobili posseduti dall'ente e come questi vengono utilizzati laddove prendi atto che l'utilizzo è un mero utilizzo personale se non addirittura economico non puoi non tirare non fare una considerazione che è quella perdonami ma si dà il caso di questo un immobile che appartiene all'ente appartiene quindi ai cittadini e come tale deve essere messo a loro disposizione e non per fare altre tipologie di attività o addirittura anche attività di natura economica per cui o siamo nel caso di alcuni esempi magari direttamente di associazioni fantasma che esistono solo sulla carta ma poi che in realtà in termini di produzione di servizi è presso che uguale a zero anche in questo caso voglio interrompere perché siamo veramente giunti quasi al termine della nostra trasmissione forse manca l'ultimo minuto mi fa notare la regia all'ultima domanda dobbiamo fare questo argomento lo tratteremo più avanti voi l'avete aperto avete acceso ai riflettori è importante andare avanti qualcuno si è butto difendere sì ma noi facciamo un egregio lavoro sì signori me ma l'accesso alle strutture benché si faccia un lavoro egregio o meno deve essere uguale per tutti non si può accedere alla struttura perché si fa parte dall'uno all'altro orientamento politico tutti vorremmo accedere tutti i cittadini devono avere la stessa possibilità di accesso alle strutture pubbliche poi si va al progetto come si fa nei progetti come sviluppo Italia progetti economici per avviare un'impresa il progetto migliore lo prendeva però il suo spazio è vero però ci sono state le elezioni si è votato come lo valuta l'esito dell'ultimo voto amministrativo glielo devo chiedere il giorno dopo il 12 ho letto ho aperto i titoli dei giornali e ho letto vince il centrodestra vince il centrosinistra e perde i 5 stelle magari così puoi fare un sunto poi dici ma cosa è successo poi magari fai una riflessione una disamina un tantino più attenta e una disamina un tantino più attenta esce fuori che il centrosinistra vince magari mettendo da parte quello che è il concetto del simbolo stesso quindi diventando anch'esso un movimento stessa cosa su Glanderini se c'è il centrodestra però soprattutto l'aspetto quello che è legato al movimento 5 stella che mi permetti posso avere la presunzione di poter dire che conosco un tantino io non lo direi che era dato per spacciato o morto perché finché finché i partiti o i movimenti non trovano le ragioni del perché la gente che va al voto oggi si trova a votare questo movimento 5 stelle io penso che daremo e si darà a questo movimento ancora vita lunga laddove si entra in un contesto per cui tu dici scusa ma quali sono le ragioni che hanno oggettivamente portato tantissime persone a fare questo tipo di valutazione io finché non inizieranno i partiti dico anche quelli classici tradizionali perché non dimentichiamo che democrazia è democrazia se esistono i partiti se esiste quello che la costituzione per certi versi ci ha pure fornito uno strumento partito che serve praticamente a creare quelle condizioni di democrazia nel nostro paese allora è questo che secondo me al di là di chi è vinto e di chi ha perso vada secondo me affrontato poi ogni realtà è diversa da un'altra Assessore questo è il caso di Gela se il Movimento 5 Stelle vince l'elezione poi abbandona i sindaci perché qualcosa non va bene è difficile poi vincere l'elezione Pizzarotti a Parma gli ha dato uno schiaffo veramente un giaffone al Movimento 5 Stelle gli ha dimostrato che al di là del partito si può andare avanti ma noi dobbiamo chiudere e come chiudiamo lei il problema Gela esiste ancora questa amministrazione questa giunta non ha un partito di quelli forti almeno sta cercando una stabilità ma io le chiedo a lei Assessore ma le temi di più una sfiducia o un rimpasto dell'aggiunta e poi chiudiamo guarda non lo so io l'unica cosa che temo detto tramette è l'idea praticamente di che in questa città si sia ma te lo dico al di là del ruolo che svolge potrei anche non svolgerlo domani mattina si sia comunque intrapeso un percorso che è un percorso di risanamento un percorso per cui praticamente si inizia a dare alle cose il giusto peso e si mettono in campo le giuste regole se sfiducia o rimpasto significa fare un passo indietro rispetto a questo tipo di ragionamento io sarò il primo a farlo per cui non è il tema se il tema è la sfiducia o il rimpasto il tema è qual è il percorso per questa città noi riteniamo ma te lo dico con presunzione noi riteniamo di averlo intrapreso in maniera corretta poi potremmo magari essere stati criticati io spesso la critica la condivido da parte dei consiglieri ma andate da soli non ragionate con noi fate tutto da soli è una colpa che faccio a me stesso ne parlavamo qualche giorno fa di nuovo in giunta però spesso noi stiamo vivendo e lo viviamo tutti i giorni questo ente questo comune proviamo tutti i giorni a trovare soluzioni che spesso neanche chi le amministra le trova le soluzioni linea diretta anche oggi assessore la salutiamo grazie per essere qui con noi comunque la sua avventura ha fatto emergere un aspetto importante sicuramente un padre di famiglia può gestire una famiglia i conti di una famiglia se lo fa con questa amministrazione piena di debiti e con meno soldi all'attivo diventa tutto più difficile un premio a casa l'avrà il padre di famiglia ma linea diretta è giunto al termine i nostri 40 minuti sono volati letteralmente volati lo diciamo sempre sono pochissimi sono pochissimi di fronte a me c'è l'assessore vice sindaco Simone Siciliano che noi invitiamo già dalla prossima puntata a venire con noi per parlare tantissimo parlare di sviluppo parlare di economia l'appuntamento è sicuramente per martedì prossimo ma vi aggiorneremo se sarà possibile anticipare a giovedì lo chiediamo poi all'assessore a microfoni spenti questo voi potete seguirci sempre sui nostri canali ricordiamolo ribadiamo sul digitale terrestre 621 e sulla nostra piattaforma ufficiale del sito quotidiano di Gela sulla piattaforma facebook e sul nostro canale web quotidiano di Gela punto tv un saluto da Luca Maganucco questo era Linea Diretta Linea Diretta voce ai cittadini l'amministrazione risponde ogni martedì alle 18 in diretta web su quotidianodigela punto tv il sindaco e la giunta rispondono alle domande dei cittadini live sulla pagina facebook del quotidianodigela punto it l'amministrazione risponde la giunta pari dell'amministrazione risponde Grazie a tutti